tutti ne parlano anche se fanno finta di occuparsi poi di altro e più urgente armi guerra il ruolo della diplomazia europea il bilaterale di mario draghi a washington giuseppe conte ne avrebbe già parlato con il presidente della commissione affari costituzionali giuseppe brescia vai avanti con la riforma della legge elettorale in senso proporzionale quelli del pdc stanno brescia ne ha una pronta nel cassetto da tempo aspettava solo il via libera i centristi del centro-destra i cespugli che non accettano una coalizione attrazione meloni e fratelli d'italia ci sperano ma sono anche impegnati a far di conto con il numero dei collegi elettorali e dei posti in parlamento ridotti di un terzo per cui se non abbiano protezione nelle liste più pesanti rischiamo di essere travolti con il nostro 2 a 3 per cento e di restare fuori dal parlamento lato pd possiamo dire che il tema è molto caldo e sentito martedì della scorsa settimana ad esempio nella saletta berlinguer della camera è andato in scena il ritrovato orgoglio delle correnti pd per la prima volta ad un anno dalla sua trionfale elezione hanno dato la linea al segretario letta su un tema determinante come la legge elettorale il punto è che il segretario den fa finta di prendere appunti evita così è il suo stile lo scontro diretto ma poi quando prende la parola ad esempio lunedì nell'intervista al corriere dalla sera fa capire che oggi non ci sono nei tempi nelle condizioni per portare avanti una riforma della legge elettorale a meno che non venga fuori che anche il centrodestra alla fine decida di dividere i propri destini e tornare a competere manca un anno alle elezioni politiche c'è tutto il tempo per riscrivere le regole del gioco ancora una volta saranno le elezioni amministrative a dire da che parte conviene andare tutti ne parlano quindi ma l'esito è ancora incerto l'esito 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 l'esito